Il vertice di giovedì, convocato dal management di Aspen, non è bastato a far spegnere le polveri delle polemiche. In ogni caso, a Palazzo e Città, si aspettano soluzioni concrete per rafforzare l'ospedale Vittorio Emanuele. Il sindaco Lucio Greco, che ha partecipato all'incontro con i manager dell'azienda sanitaria e con i deputati regionali, ieri ha incontrato i capigruppo consigliari, il presidente dell'assistica civica Salvatore Sammito, gli assessori e i componenti della Commissione Sanità. Greco ha scelto di richiedere un consiglio comunale monotematico, proprio sul tema della sanità cittadina, secondo sindaco e consiglieri, ormai palesemente depotenziata. Vuole essere un momento di confronto e di approfondimento tra il consiglio comunale, la direzione strategica e altre autorità. Spero, mi auguro, che possa venire anche l'assessore regionale alla sanità per prendere coscienza di tutti quelli che sono i problemi del presidio ospedaliero di Gela e finalmente iniziare a dare risposte concrete e veloci ad una città che da fin troppo tempo soffre di servizi per quello che riguarda la sanità complessivamente. Qualche risposta nel frattempo però da ASP è arrivata. Così come già anticipato ieri è stato deliberato dal direttore generale dell'ASP il bando attraverso il quale verranno assunti diversi specialisti per coprire i posti oggi vacanti al Vittorio Emanuele. Si tratta di 33 nuove risorse da destinare ai reparti di cardiologia, ginecologia ostetricia, malattie infettive, ortopedia e traumatologia, urologia e ematologia, medicina trasfusionale, neurologia, radiodiagnostica, anatomia patologica e terapia del dolore. Un primo passo importante e atteso da tempo, secondo il primo cittadino. È una prima risposta che seppur arriva con enorme ritardo, certamente non possiamo che salutarla positivamente. A questo si aggiunge che da qui a qualche settimana al massimo inaugureremo il pronto soccorso infettivologico. Stanno completando gli ultimi lavori per montare la TAC e la riqualificazione di tutta quell'area. Dopodiché inizieranno tra qualche settimana anche i lavori del pronto soccorso che abbiamo con la standeria. Anche lì è tutto un progetto di ristrutturazione, di riqualificazione, di miglioramento e di allargamento di quell'area. E si dà finalmente dignità al pronto soccorso del Vittorio Emanuele Di Gela. Anche questo è un fatto estremamente importante che seppur sembra in ritardo, finalmente abbiamo avuto certezza che tutto questo avverrà. Ed in ultimo abbiamo avuto anche certezza che da qui a qualche settimana l'ASP consegnerà i locali dove dovranno iniziare i lavori con il finanziamento dell'ENI per gli altri posti di terapia intensiva. Sono misure importanti che salutiamo positivamente, che ci fanno guardare all'immediato futuro con più ottimismo e maggiore serenità. Considerato anche il fatto che abbiamo ancora una emergenza sanitaria dettata dalla grave pandemia, ma tutto questo non deve significare alibi per nessuno e bisogna continuare a lavorare in questa direzione.